Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Mi trovo ancora voi dentro questo armadio Sì, l'avete capito bene E ho anche una felpa molto strana Ma d'altronde chi è normale in questo mondo? Io no di sicuro Allora, prima di iniziare, come avete letto nel titolo Che cosa ho detto? Come avete letto nel titolo Oggi parlerò... non so più parlare, ok? Oggi parlerò con Siri Che si trova dentro questo telefono E gli chiederò le domande che voi mi avete fatto su Instagram Quindi non perdiamo altro tempo E andiamo subito a chiedergli le domandine Ciao Siri, chi ti ha creato? Sono Siri, vengo dalla California Mi ha progettato Apple E la prima domanda è stata fatta Avete capito? L'ho progettato l'Apple La mela Quella che trovate sugli alberi E sono buone poi No, tanto buone non sono Ce ne parliamoci chiaro A mangiare una melina A digiuno ti disseta Quanti anni hai? Non mi hai consentito rispondere a questa domanda Perché? C'è un perché nascosto in tutte le cose che conduce ad un altro perché Il quale suggerisce un piccolissimo imprevisto perché Da cui scaturisce probabilmente un altro Nuovissimo e appena nato perché Che cavolo ha detto? No, voglio il replay adesso di questa cosa C'è un perché nascosto in tutte le cose che conduce ad un altro perché Il quale suggerisce un piccolissimo imprevisto perché Da cui scaturisce probabilmente un altro Nuovissimo e appena nato perché Siri, mi presti dei soldi? Non te lo consiglio Sulla nuvola Gli interessi sono alle stelle Ok Siri, sei inutile Non me lo fa di Non capisco Non vuole che gli dico sei inutile eh Ah sì? Ah sì, te lo dico qua allora Siri, sei inutile Siri, vuoi sposarmi? Siamo solo amici, ok? Perché solo amici? Perché sì Perché? Il libro di perché è lungo e ancora da leggere Ok, non me lo voglio dire Siri forse si è fidanzata con qualcuno e non ce lo voglio dire Sicuramente è così, purtroppo Ti ho colpita, sono cupido Siri, sei maschio o femmina? Non so bene cosa rispondere Siri, sei gay? Stavamo parlando di te, non di me Oddio, anche Siri mi ha detto che sono gay Siri, dimmi una barzelletta Conosco una favola russa se vuoi Dunque, c'era una vodka? Dopo questa Mi sono stufato di te, addio Non so se ho capito bene Hai capito invece, fai finta Siri, dove si trova il bagno più vicino? Che tipo di posto cerchi esattamente? Negozi, cucina e bagno Negozi di accessori bagno O gabinetti pubblici Siri, dov'è il bagno? Puoi indicarmi che posto cerchi esattamente? Negozi, cucina e bagno Tu madre Mia madre, non capisco Invece sì Sei vergine? Non penso ci sia tempo per parlare di questo Perché? Purtroppo non so rispondere a questa domanda Siri, hai mai detto al ragazzo che il c***o lo assomiglia? Che linguaggio? Ci crede gli alieni? No comment, preferisco non aver nulla a che fare con omicidi di cane What? Che c***o vuol dire? Prima di andare, non vuoi cantare la canzone dell'arrivederci? Certo, con molto piacere Ber Con molto piacere Ok, spero che il video vi sia piaciuto e vi ha strappato un sorriso Seguitemi sui miei social e iscrivetevi al mio canale Che si trova al bottoncino qua sotto Qui da Davide è tutto E noi ci vediamo alla prossima settimana Bye Ciao